I Carabinieri del Comando Provinciale d'Imperia hanno eseguito nelle province di Napoli Potenza e Terni 15 misure cautelari nei confronti di altrettanti soggetti appartenenti ad un'organizzazione criminale di origine campana, ritenuti responsabili di associazione a delinquere, finalizzata a perpetrare truffe in danno ai persone anziane, commesse su tutto il territorio nazionale. L'indagine, avviata in novembre 2018 e convenzionalmente denominata Gerione, ha consentito sia di documentare la riconducibilità agli indagati di 42 episodi delittuosi, il cui danno complessivo è stato pari ad Euro 300.000 circa, sia di definire i ruoli dei singoli adepti dell'organizzazione criminale. Alcuni, dopo aver contattato la vittima al telefono, qualificandosi come appartenenti alle forze dell'ordine o avvocati, riferivano che un prossimo congiunto aveva provocato un incidente stradale senza essere coperto dall'assicurazione. Pertanto, con insistenza e approfittando di uno stato di procurata tensione, chiedevano una somma di denaro o preziosi per poter liberare il parente a titolo di cauzione. Ricevuto l'assenso, il complice e i complici in attesa in strada si presentavano come emissari per iterare denaro o oggetti di valore. Fortunatamente, non tutti i 42 episodi menzionati sono stati consumati. In molti casi, i truffatori hanno gettato l'esca, senza però riuscire ad aggirare la vittima perché non aveva figli o nipoti oppure perché è insospettita dalla richiesta di oro e preziosi insieme al denaro. In un'occasione, un'anziana donna ha riferito, non mi convince, ora chiedo ad un amico carabiniere. Affermazione che ha fatto desistere il malvivente.